Ma perché ti senti la più scarso della squadra? Io non mi sento che nessuno è scarso Cioè, arrivati a questo punto siamo tutti forti E allora? Però, ora che abbiamo dei risultati direttamente dalle puntate Direttamente dai giudici La settimana scorsa hanno salvato Sara piuttosto che me Eh sì, è perché hanno preferito Sara Che puoi fare? E quindi è quello Ma dipende pure dall'esibizione Dipende tanto dall'esibizione Domani quando vai sul palco Non c'è andare già sconfitta Per forza no Io lo devo fare per forza Cioè, non esiste Non esiste uscire domani per me Non esiste proprio Penso che mi merito di andare avanti Però non riesco a sentirmi sicura nel momento in cui Devo fare quello che devo fare È questo che mi turba E allora? E allora? E allora? E allora? E allora?